salve amici e ben ritrovati sul canale di marci oggi presenteremo una ricetta dei biscotti senza farina e senza lievito consiste essenzialmente nell'avere quattro ingredienti e sono 250 g di zucchero 250 g di farina di cocco 3 uova e 300 g di cioccolato fondente iniziamo lavorando le uova e lo zucchero con un frullatore elettrico dopo aver lavorato con cura le uova e lo zucchero integriamo gradualmente la farina di cocco dopo aver incorporato oltre la metà della farina di cocco l'impasto inizia ad essere tendenzialmente duro quindi integriamo la restante parte lasciando il frullatore e utilizzando un cucchiaio di legno abbiamo lavorato tutti gli ingredienti ora non ci resta che stendere il composto su una leccarda rivestita con carta da forno come potete notare la leccarda non viene coperta interamente ma dobbiamo dare un certo spessore ai biscotti ora non ci resta che infornare in forno statico preriscaldato a 180 gradi per circa 15 minuti mentre la base dei nostri biscotti sta cuocendo facciamo sciogliere a bagnomaria il cioccolato fondente ed ecco la nostra base per biscotti ben cotta ora aspetteremo che si raffreddi un po prima di stendere il cioccolato fondente sopra abbiamo fatto raffreddare per bene la nostra base per i biscotti abbiamo fatto sciogliere anche il cioccolato fondente ora con un pennello da cucina copriamo interamente la superficie ed ecco come si presenta il nostro dolce dopo aver distribuito tutto il cioccolato fondente ovviamente ora non ci resta che aspettare che si raffreddi bene facciamo prima una leggera incisione un'altra leggera incisione Grazie a tutti. Ed ecco i nostri biscotti senza farina pronti per essere gustati. Prima di salutarvi volevamo ringraziare la nostra amica Dori di Trento per averci fornito questa ricetta e invitiamo appunto tutti i nostri fan a seguire il suo esempio inviando le ricette tradizionali o quelle che più riescono meglio e così noi le potremo mettere in pratica. Ebbene con questo video Margi vi saluta e vi aspetta sul sito www.passionericettadimargi.com Grazie a tutti.